Il primo tempo non lo stimolo io, guardate che cosa combina, prego, guardate. Per come siamo messi oggi non ho la sensazione di prendere gol, oggi non prendiamo gol almeno. Oh, Chirico ha detto, oggi non prendiamo gol, Chirico hai visto, Ruiu, così mi piaci, oggi non prendiamo gol, la profezia di Ruiu cade al 29esimo del primo tempo, due minuti in allergia, speriamo di non rientrare su 1-0 per la santa. Prego, lì in allergia, grazie. Gol della Sampdoria, gol della Sampdoria, gol della Sampdoria, Ruiu, l'aveva detto Ruiu, oggi non prendiamo gol, io ho detto speriamo di non rientrare con il gol della Sampdoria, Ruiu sei al di là oramai di ogni possibile pessimistica previsione, siamo terrorizzati.